Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti, prosegue questa giornata all'interno dell'iniziativa Notte dei ricercatori, settimana della scienza organizzata da Frascati Scienza. Questo è il terzo intervento nel corso della mattinata, le tematiche che sono state il filo conduttore durante il corso della giornata, senz'altro benessere del paziente, senz'altro miglioramento della qualità della vita, tecnologia a supporto del miglioramento della qualità della vita, quanto mai connesso il tema di oggi con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, quanto mai il concetto di resilienza, come ci ha spiegato prima la professoressa Trombetta, è quanto mai attuale. Il titolo di questa sessione è molto ambizioso, Resilienza e futuro semplice. Qui accanto a me c'è la professoressa Loredana Zollo, professore di bioingegneria e responsabile del Creolab, il professor Paolo Soda, professore di sistemi di elaborazione delle informazioni presso la facoltà dipartimentale dell'Università Campus Biometrico di Roma e il professor Domenico Fermica, professore in bioingegneria industriale, coordinatore e poi ci parlerà del progetto Combo. Accanto a me ho dei ricercatori che conosco, devo dire da lungo tempo, tutti e tre molto impegnati in progetti su bandi competitivi, impegnati con un approccio spiccato molto verso il mondo industriale e verso tecnologie, ovviamente per le diverse specializzazioni, a supporto del paziente. Questo evento oggi è suddiviso in tre slot, vedremo dei video. Lascio alla professoressa Loredana Zollo, una brevissima prima di approcciarsi al video, in introduzione del video, che ricorda esperienze pregresse fatte nel periodo anche pieno dell'emergenza sanitaria di marzo. Il tema è quello dei robot collaborativi e come essi possano essere resilienti e come essi possano supportare verosimilmente tutto l'apparato assistenziale anche in corsia o all'interno di ambienti di lavoro. Grazie professoressa. Grazie dottor Capriotti. Il robot collaborativo è un concetto moderno che si collega naturalmente alla robotica avanzata perché prevede un robot sempre più vicino all'uomo. Nasce come concetto dalla robotica industriale, quindi dall'ambito fortemente di automazione industriale in cui il robot va al di fuori degli spazi confinati dietro le cosiddette gabbie e si muove sempre di più verso un'attività lavorativa svolta in collaborazione con l'uomo attraverso il contatto con la persona. Quindi il robot è visto come una figura che è sicura nell'interazione, che collabora con l'uomo, svolge insieme all'uomo dei compiti e insieme appunto cercano di migliorare anche il risultato dei compiti svolti. E questa è l'esperienza che noi invece abbiamo applicato in un contesto sanitario come quello dell'emergenza sanitaria covid-19 nel periodo di lockdown, mettendo in campo un sistema robotico collaborativo, ci ha pensato per collaborare con gli assistenti sanitari nell'ambito dei centri per il trattamento del covid. Qual è l'elemento chiave di questi sistemi? Sicuramente la sicurezza nell'interazione e la capacità di interagire non soltanto da un punto di vista fisico, scambiando delle forze, ma anche da un punto di vista cognitivo e quindi anche la capacità di utilizzare i sistemi di visione, navigazione autonoma e anche interazione verbale. Quello che vedremo nel video è un esempio di questo tipo di sistemi e di come possano, anche da questa esperienza, mi ricollego al concetto di resilienza, abbiamo messo in campo un sistema su cui appunto non stavamo ancora lavorando, ma che ci sembrava utile per dare supporto anche al nostro policlinico nel momento del lockdown e da lì è nata la nostra possibilità di emergere con nuovi progetti, nuovi spunti di ricerca su bandi anche competitivi a livello europeo che ci stanno consentendo di andare avanti con queste ricerche. Grazie. Grazie professoressa. Prima di entrare nel vivo con i diversi video, pongo anche al professor Soda, professore di sistema di elaborazione delle informazioni, di modo che poi le domande le possiamo associare alla fine, però una breve introduzione sul video che andremo a vedere all'interno dei vostri laboratori. Sì, grazie dottor Capriotti per l'introduzione, buongiorno a tutti. Il video che andremo a vedere mostra il concetto di resilienza applicato al settore dell'elaborazione delle informazioni, soffermandosi su un grande contributo che ha dato l'intelligenza artificiale nella lotta alla pandemia. Il fatto che ci troviamo in un contesto fortemente digitalizzato ha messo a disposizione sin da subito molti dati che sono stati elaborati con i più moderni algoritmi, abbiamo sicuramente sentito parlare di deep learning come metodologia cutting edge in questo periodo. Vedremo quindi due applicazioni sviluppate all'interno del nostro laboratorio, realizzate per dare supporto durante la fase acuta della pandemia, una dedicata all'elaborazione delle immagini come strumento di supporto per l'analisi prognostico, per l'analisi predittiva delle radicografie del torace, e un'altra invece legata al monitoraggio intelligente dei pazienti in isolamento domiciliare. Grazie professor Soda, chiedo anche al professor Domenico Formica, professore associato in biogiorneria industriale, di poterci, visto che l'esperienza anche del progetto COMBOX nasce purtroppo per età, ricordo precedenti progetti già fatti con bambini, sempre a livello, in risposta a call europee, non ricordo se era il quinto o sesto programma quadro, com'è verrà rappresentato il cambio di paradigma dell'educazione nei confronti dei bambini all'interno del progetto COMBOX e all'interno di quello che andremo a vedere. Grazie professore. Grazie a lei per la domanda. Il progetto COMBOX, di cui vedete tra un attimo un breve video, appunto come ha anticipato il dottor Capriotti, si occupa di fornire un cambio di paradigma nell'educazione dei bambini, in particolare nell'apprendimento della scrittura, nell'apprendimento di un nuovo strumento musicale, utilizzando tecnologie robotiche. L'idea è quella di usare dei robot con cui l'utente, in questo caso il bambino, si interfaccia, quindi dei robot indossabili, che trasferiscono forze da una persona a un'altra. Quindi potremmo avere una situazione in cui due bambini imparano insieme a fare un nuovo compito, per esempio scrivere, oppure in cui il bambino viene guidato dall'aiuto di un insegnante ad imparare quel nuovo task motor. Quindi l'idea è proprio di utilizzare i robot per unire fisicamente due persone e migliorare l'apprendimento di un nuovo compito motorico. Grazie professore, penso possiamo partire con i video. Grazie. Il Creolab si occupa di tecnologie robotiche e meccatroniche pensate per essere utilizzate in ambienti umani e quindi per operare in collaborazione, cooperazione sinergica con l'uomo. È proprio in questo scenario che è partito il nostro progetto di ricerca sui robot collaborativi pensati per essere utilizzati in ambiente ospedaliero come assistenti sanitari. Infatti proprio in occasione del periodo di lockdown causato dall'emergenza sanitaria Covid-19 abbiamo sviluppato un robot collaborativo per lo svolgimento di attività sia di logistica che di sanificazione degli ambienti presso il Campus Covid Center. In particolare, tre sono le caratteristiche fondamentali del sistema che hanno reso possibile l'inserimento rapido ed efficace nel Covid Center sono la percezione, la movimentazione autonoma e la solidità strutturale. Il sistema infatti è dotato di una base mobile che è in grado di navigare nell'ambiente, individuare ostacoli, evitarli e raggiungere la destinazione selezionata. Abbiamo quindi sviluppato un'interfaccia utente specifica per gli operatori sanitari dalla quale l'operatore può selezionare la destinazione il robot trasporta efficacemente presidi ospedalieri può annunciare il suo arrivo e quindi procedere allo scarico del materiale. Attualmente stiamo continuando a investire su questo sistema in particolare nell'ambito di due progetti uno nazionale e l'altro europeo per sfruttare la grossa potenzialità di questa piattaforma che oltre ad avere capacità di navigazione autonoma è dotata anche di un braccio antromorfo che ha 7 gradi di mobilità con il braccio umano una mano che è rappresentata da una pinza e che quindi consente di aprire e chiudere l'effettore effettuando dei compiti di presa e manipolazione e una testa che consente di vedere e integrare la visione attraverso due telecamere RGBD ciò consente di replicare quei processi di integrazione visuomotoria che noi applichiamo durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa o quotidiana si basa su un approccio che noi chiamiamo Learning by Demonstration in cui un operatore umano mostra e insegna al robot come eseguire dei compiti i compiti mostrati vengono immagazzinati all'interno di un database poi attraverso degli algoritmi intelligenti il robot accede al database estrae le informazioni utili all'avvolgimento del compito e le esegue riproducendo fedelmente quanto precedentemente registrato su uomo Le tecniche di intelligenza artificiale stanno svolgendo un ruolo molto importante nella lotta alla pandemia in particolare nel settore della prevenzione nella diagnosi e del trattamento vedremo adesso due progetti che ci vedono attivi su questo fronte uno legato alla diagnosi e un altro legato al trattamento il progetto legato alla diagnosi ci vede coinvolto all'interno del laboratorio congiunto di medicina di precisione biotato analytics istituito insieme al centro diagnostico italiano in un progetto di sviluppo di sistemi di supporto alla decisione che elaborano le immagini RX del torace ed identificano i polmoniti dovute dal Covid-19 discriminandoli da quelle batteriche o da altri tipi di patologie respiratorie allo stesso tempo stiamo lavorando un altro progetto a carattere prognostico in cui utilizzando dati clinici utilizzando dati sempre estratti da immagini RX si può prevedere il decorso della malattia e l'outcome del paziente a questo scopo vedete qui tre immagini di RX torace con delle mappe di attivazione che identificano sui polmoni del paziente le regioni che portano maggiori informazioni a questo scopo il secondo progetto ci vede attivi invece nell'ambito del telemonitoraggio abbiamo realizzato insieme a uno spin-off accreditato dal campus biomedico BPCO Media un servizio di telemonitoraggio intelligente dedicato a pazienti Covid e a pazienti affetti da patologie croniche dell'apparato respiratorio come la BPCO il sistema utilizzando tre semplici misure che vengono elaborate da un algoritmo di intelligenza artificiale è in grado di identificare situazioni potenzialmente pericolose e di notificarle a un clinico che segue il paziente in questo modo il paziente è responsabilizzato c'è una maggiore aderenza della terapia e il clinico può concentrare la propria attenzione solamente sui dati significativi e sugli eventi rilevanti oggi vi parlerò del progetto COMBOTS COMBOTS significa Connected Through Robots cioè vuol dire connessi tramite i robot l'idea è quella di utilizzare i robot per connettere fisicamente due persone al fine di facilitare l'apprendimento motorio è pensato per essere applicato ai bambini che imparano a scrivere e a suonare uno strumento l'idea viene da una serie di studi di neuroscienze che sono stati condotti negli ultimi dieci anni che hanno dimostrato come quando due persone fanno uno stesso task motorio e sono collegate fisicamente tramite delle interfacce robotiche l'apprendimento è facilitato per cui il progetto mira a costruire dei nuovi robot che verranno indossati dai bambini che sono controllati in modo da permettere lo scambio di forze da una persona all'altra un progetto europeo finanziato per quasi 5 milioni di euro e coinvolge 7 partner europei durerà per i prossimi 3 anni noi abbiamo iniziato in questa prima fase a fare alcuni esperimenti preliminari un esperimento è quello che vedete alle mie spalle in cui non siamo nello scenario educativo quindi della scrittura dell'insegnamento di un strumento ma ci sono due persone che utilizzando i robot interagiscono tra di loro perché i due robot trasmettono le forze di una persona all'altra mentre stanno imparando a fare un task motorio che è inseguire un cursore su uno schermo questo esperimento preliminare che poi porterà alla progettazione e al controllo dei robot combots in futuro serve a mettere a punto quali sono i parametri del controllo migliori per ottimizzare l'apprendimento un altro esperimento che stiamo conducendo in parallelo in collaborazione tra il NEXT Lab e il laboratorio di misure sempre del campus biomedico è quello di utilizzare dei sensori indossabili su dei violinisti esperti che servono a acquisire alcuni parametri fisiologici la frequenza cardiaca la respirazione il movimento la risposta galvanica della pelle per capire qual è il loro stato emotivo nel momento in cui suonano un pezzo questo ci consentirà di adattare il comportamento delle piattaforme robotiche al diverso stato emotivo e fisico del soggetto mentre sta imparando grazie grazie ai nostri ricercatori devo dire pur conoscendoli da tempo fa sempre molto piacere vedere quanta resilienza veramente ci sia in tutte le loro ricerche ci sono tre domande che nel frattempo sono arrivate vado in ordine per la professoressa Zollo quali ulteriori sviluppi potrebbe avere il robot collaborativo in campo sanitario può fare qualche esempio pratico? certamente noi due esempi pratici sono direttamente connessi ai progetti che stiamo sviluppando un primo progetto che su un bando regionale qui appunto nel Lazio riguarda l'utilizzo della stessa piattaforma robotica che abbiamo visto quel robot collaborativo bianco pensato per replicare un comportamento del fisioterapista nella somministrazione del trattamento riabilitativo abbiamo visto che quel sistema offre la possibilità di sfruttare le informazioni visive oltre che anche una capacità di sintesi vocale oltre che la capacità di movimentazione quindi ciò che stiamo facendo è studiare esattamente cosa avviene nell'interazione tra il fisioterapista e il paziente durante un tipico trattamento riabilitativo sia dal punto di vista fisico che cognitivo anche in termini di cambio di espressioni facciali piuttosto che espressioni verbali e cerchiamo quindi di riprodurlo su un sistema robotico perché possa essere replicato in un trattamento riabilitativo di tipo robot mediato in presenza di un robot l'altro questo offre il vantaggio c'è una ricca letteratura su questo che dimostra quale possano essere i vantaggi e nessuno diversi dell'utilizzo di un robot nei trattamenti riabilitativi sicuramente ci sono aspetti legati a una maggiore standardizzazione del trattamento riabilitativo oltre che una quantificazione del recupero l'altro aspetto su cui stiamo lavorando nell'ambito di un progetto europeo è invece quello di utilizzare il robot come infermiere all'interno degli ospedali quindi dei robot che possano svolgere un ruolo sia nei turni diurni che notturni di monitoraggio delle corsie ospedaliere e quindi dei pazienti soprattutto nelle parti di geriatria dove soprattutto nelle fasi notturne possono i pazienti possono alzarsi hanno bisogno di assistenza possono aiutare le persone anziane nella deambulazione il robot può portare farmaci piuttosto che supporto alla deambulazione alla movimentazione nel letto e via di seguito quindi il secondo scenare su cui stiamo lavorando è quello invece più di riferimento in ambito infermieristico in cui il robot con la sua capacità di integrazione ai sensori motori può replicare diciamo il ruolo di un infermiere e quindi aiutarlo soprattutto nei turni notturni grazie professoressa vedo che c'è un'altra domanda per lei in cui è molto interessata la mappatura degli spazi in quanti ambienti può girare il robot evitando gli ostacoli ma di fatto il limite del robot non è tanto il numero degli ambienti quanto la durata della batteria perché è un sistema da navigazione autonoma ma che ha bisogno di utilizzare una batteria per muoversi e ha una durata di circa quattro ore per cui ha bisogno ulteriormente di una fase iniziale di mappaggio dell'ambiente cioè bisogna accompagnare teleguidandolo con un joystick nell'ambiente in cui dovrà navigare autonomamente in quella fase di mappaggio il robot impara e registra la mappa dell'ambiente quindi ha un suo database interno all'interno del quale vengono inseriti i dati relativi a quell'ambiente e quindi quando torna a navigare autonomamente in quell'ambiente carica quella mappa e si muove liberamente grazie a dei sensori integrati nella base mobile può individuare ostacoli ed evitarli i sensori consentono di effettuare una scansione dell'ambiente individuare l'ostacolo sia statico che dinamico e quindi aggirarlo evitandolo abbiamo verificato effettivamente il livello di affidabilità è molto alto non è al cento per cento ma insomma siamo negli intorni del cento per cento di affidabilità sia in presenza di ostacoli statici quindi fermi che in presenza di persone che si muovano tipo gli operatori sanitari a una velocità naturalmente di un passo tranquillo o comunque lavorativo grazie uno dei precedenti interventi che appunto ha preceduto questa sessione era di un stato di un dottorando che ci ha parlato di oltre il senso del tatto e è venuta da sé una riflessione da parte del dottorando come questi tutti questi progetti di cui ci avete ampiamente parlato quanto siano attenzionati dal mondo dell'industria perché ha servizio e mondo dell'industria anche allargato mondo assicurativo evidentemente per diversi processi di di calcolo da di calcolo del rischio da loro effettuati sono due ambiti naturalmente diversi sia la presentazione dell'ingegner Demofonti sulla protesica quindi il senso del tatto che il mio guardano due ambienti della robotica ma con applicazioni diverse nel caso specifico del robot in ambiente sanitario in realtà l'applicazione industriale è molto immediata perché il concetto di robot collaborativo anche a livello di standard e normative nasce dal mondo industriale quindi c'è un'effigenza molto forte dell'ambiente industriale anche manifatturiero incluso anche tutto l'ambito delle aziende automobilistiche per esempio il settore automotive per l'utilizzo e l'inserimento di robot collaborativi sulla linea ovvero dei robot che non sono chiusi dietro le barriere a effettuare dei compiti in maniera singola autonoma e separata dall'uomo ma che possono effettivamente affiancare la persona anche sulla linea di montaggio e passandosi appunto dei pezzi e collaborando soprattutto in attività pesante o molto diciamo stressanti dal punto di vista fisico per quanto riguarda invece la protesica sì come menzionava bene il dottor Capriotti c'è un interesse molto forte anche da parte delle assicurazioni per tutto ciò che può concernere gli incidenti i traumi i problemi appunto gli infortuni che avvengono anche in ambito lavorativo perché uno dei problemi importanti è che non soltanto l'amputazione ma anche altri tipi di traumi possono avere un impatto sulla perdita della sensibilità tattile per esempio quindi studiare dei meccanismi che possono riuscire a recuperare la capacità di presa manipolazione e anche di ritorno sensoriale può avere un beneficio trasversale a tutti gli ambienti lavorativi soprattutto nell'ambito degli infortuni e quindi della sicurezza sul mondo del lavoro grazie grazie professoressa sono arrivate due domande per il professor Soda una veramente molto lo vuol comprare cioè si vuol comprare sta roba l'app è accessibile a tutti cosa bisogna fare per averla allora l'app è accessibile a tutti sullo store Google di Google è un'app dispositivo disponibile sulla piattaforma Android bisogna acquistare un kit con un pulsiosimetro perché le migliorazioni vengono fatte utilizzando un pulsiosimetro che trasmette all'app allo smartphone su cui gira l'app e al cui interno è integrato l'algoritmo di intelligenza artificiale quindi acquistando il pulsiosimetro è poi possibile attivare il prodotto mi fa piacere anche segnalare un'iniziativa per cui 1200 dispositivi sono stati distribuiti alla protezione civile per far fronte all'emergenza è una nota casa farmaceutica che ha fatto questa donazione alla protezione civile acquistando i kit dalla start-up bello bello sia dal punto di vista industriale sia dal punto di vista umano resiliente visto che questo è il tema l'altra 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 domanda se la intercetto l'app valuta se il malato ha saltato una misurazione e gli invia un alert sonoro? Sicuramente sì ovviamente il sistema di monitoraggio è in grado di rilevare le misurazioni saltate ma fa anche di più il sistema di monitoraggio è predittivo quindi sulla base dello storico delle misure che sono state registrate ci dà una possibilità un'analisi una stima della possibile evoluzione della patologia quindi segnalando al paziente se è un trend di normalità o se c'è un trend di peggioramento verso alcune patologie respiratorie particolarmente rilevanti come la dispenea la tecnicardia nel caso di affezioni cardiocircolatorie piuttosto che eventi acuti di peggioramento che sono noti con il nome di riacutizzazione grazie una domanda una domanda da parte del moderatore prima l'ha preceduta un intervento di un dottorando di tutta altra area però alla fine si parlava di telemedicina e come sta cambiando il concetto della telemedicina quindi più selettivo per scrinare effettivamente quei pazienti che poi sono più che hanno più necessità e evidentemente hanno un accesso all'interno di una struttura sanitaria l'intelligenza artificiale ha parlato prima di preditivo modello preditivo come può essere un fattore prognostico all'interno di ricerche non so sugli Rx o effettuate da una base da una partenza che ha una base nel monitoraggio grazie allora queste applicazioni sono volte a sviluppare i cosiddetti sistemi di supporto all'agno o sistemi di supporto alla decisione cioè sistemi che non vogliono sostituire il clinico ma vogliono aiutarlo nel prendere una decisione utilizzando maggiori informazioni perché chiaramente gli algoritmi basati sull'uso del calcolatore sono in grado di vedere informazioni a un livello a cui il nostro occhio ad esempio non può spingersi l'ampante in questo senso è l'esempio dell'Rx nell'Rx l'Rx è basata su toni di grigio quindi su scale di grigio il nostro occhio ne vede 10-15 livelli diversi quando in realtà in un'immagine acquisita oggi ce ne sono tra i 4.000 60.000 adesso dipende proprio dal dispositivo di acquisizione e sono tutti livelli che sono visibili ad una macchina utilizzando a base di dati storiche collezionate nel tempo è possibile apprendere informazioni quindi trovare modalità per estrarre informazioni dalle immagini e per arrivare a un scopo predittivo nel caso dell'applicazione resiliente nel covid tanto per rimanere in tema il nostro scopo era quello di capire al momento dell'ospedalizzazione utilizzando l'Rx fatta l'ospedalizzazione più un insieme di parametri clinici derivanti dall'anamnesi piuttosto che dall'analisi di laboratorio riuscire a predire l'evoluzione della malattia quindi l'eventuale necessità di una ventilazione polmonare nei successivi giorni piuttosto che un ricovero in un normale reparto di deteggenza piuttosto che un isolamento domiciliare e abbiamo visto che i risultati sono particolarmente interessanti perché i sistemi sono in grado di offrire un approfondimento diagnostico su questi temi molto utile al clinico per prendere le decisioni grazie professore due domande per il professor Formica ho un fratello di dieci anni dislessico il vostro robot indossabile potrebbe aiutarlo nell'apprendere la scrittura ma anche la lettura? allora grazie per la domanda domanda molto interessante anche abbastanza complessa e diciamo mentirei se non dicessi che noi abbiamo di fatto pensato che un sistema di questo tipo può essere applicato anche a bambini che hanno qualche difficoltà nell'apprendimento il progetto Comboz è principalmente pensato in questa fase per essere sperimentato esclusivamente su bambini a sviluppo tipico però una delle principali applicazioni che abbiamo in mente per progetti futuri e negli anni futuri è quello di utilizzarlo appunto con bambini che possono avere qualche disturbo nell'apprendimento per facilitarne i processi di apprendimento è come dire aiutarli a mantenere il diciamo il flusso e il ritmo di apprendimento insieme alla classe quindi sicuramente sì in un futuro possono essere utilizzati a questi scopi per quanto riguarda il rapporto tra lettura e scrittura diciamo premetto rispondo dicendo premettendo il fatto che non sono ormai ci sono varie evidenze su questo non sono due processi cognitivi slegati per cui i robot fondamentalmente servono ad assistere il movimento e quindi ad aiutare in quel caso i bambini che hanno problemi ad acquisire i movimenti della scrittura e a capire come farli e come replicarli a scrivere però è ampiamente dimostrato che lettura e scrittura sono processi cognitivi molto legati tra di loro per cui ci sono vari studi che fanno vedere come esercitarsi a scrivere aiuta a riconoscere le lettere le parole e le frasi per cui migliorare un processo che è quello motore della scrittura sicuramente ha delle implicazioni anche nel migliorare il processo di apprendimento della lettura grazie vedo che sono arrivate in sequenza ulteriori domande per professor Formica e gli altri relatori per cui per il professor Formica nella nella domanda sulla dislessia vorrei specificare che si tratta di problemi di apprendimento di apprendimento in generale per il professor Formica i sensori possono essere usati anche dai mancini e allora questo assolutamente sì l'utilizzo è sicuramente previsto diciamo non è la misura non è sensibile al lato del corpo in cui vengono applicati questo sicuramente è chiaro che nel momento in cui andiamo a destrarre alcuni parametri legati al movimento bisogna riconoscere e poi processare i dati in maniera diversa se si ha a che fare con un destro e con un mancino quindi sull'acquisizione dei sensori l'acquisizione e elaborazione dei dati dei sensori questa cosa non la vedo molto complicata la stiamo già facendo e non è difficile tenerla in considerazione è un po' diverso il problema legato all'utilizzo dei robot e l'accoppiamento tra persone attraverso i robot perché in quel caso essere accoppiato con un soggetto che ha una lateralità diversa può comportare una serie di meccanismi sia di controllo sia di gestione dei movimenti un po' diversa però sicuramente si può fare altra domanda l'esempio del violino è casuale si può usare la batteria dico io qui scrive si può usare anche con altri strumenti musicali allora all'interno del progetto per sintesi abbiamo mostrato il violino in realtà all'interno del progetto sono previste due utilizzi per quanto riguarda la musica uno è il violino e l'altro appunto è l'utilizzo della batteria non so se era un caso quindi ci saranno due come si chiamano dimostratori per far vedere che i robot si possono utilizzare per un compito che è di tipo si dice fine motorio cioè che va a coinvolgere dei processi di controllo del movimento e dei muscoli che fanno fare movimenti fini delicati non troppo veloci come quello del violino anche se pure lì si può arrivare anche a velocità non troppo basse e poi accoppiarlo con un compito che è di tipo completamente diverso cioè che prevede movimenti un po' più di forza e movimenti ritmici quindi in cui l'output del movimento non è qualcosa che è legato al ritmo quindi abbiamo già pensato all'interno del progetto di applicarlo a questi due classi di strumenti per vedere che sono molto diversi tra di loro per vedere quanto ampio è lo spettro di applicazione da parte mia una domanda al professor Formica nell'introduzione si è parlato di cambiamento del paradigma educativo su questo oggi si sente tanto parlare considerata l'emergenza della DAD della didattica a distanza rischia di essere un sistema chiuso questo progetto? no? grazie per la domanda nel senso ad essere onesti il progetto è nato è stato pensato ed è stato anche approvato al finanziamento in epoca pre-covid sembra qualche millennio fa ma di fatto diciamo l'anno scorso di questi tempi stiamo ultimando le pratiche per firmare siglare il contratto con la commissione europea quindi solo un anno fa non c'era ancora in covid magari c'era ma nessuno di noi lo sapeva ed è stato pensato in quelle circostanze in realtà per come funzionano questi tipi di dispositivi almeno per come pensiamo di progettarli il fatto che due persone siano nella stessa stanza o siano a distanza di non so mille chilometri connessi tramite internet non fa troppa differenza sulle modalità di utilizzo della macchina quindi anche se non è stato pensato a quello scopo è sicuramente uno strumento nuovo che può dare un grosso impulso soprattutto nella didattica a distanza perché il grosso problema della didattica a distanza è che il flusso di informazioni si riesce a trasferire quindi le immagini le parole l'audio si riesce a trasferire facilmente quello che è difficile trasferire è le forze quindi quando uno sta imparando a suonare uno strumento molto spesso il maestro si avvicina ti prende il braccio ti fa vedere come si fa anche quando uno impara a scrivere la maestra il maestro la maestra mette le mani sopra la mano e ti segue quella parte lì di contatto fisico ovviamente non si può fare a distanza i robot consentono di farlo grazie grazie veramente nuove frontiere per la professoressa Zollo sono arrivate due domande c'è un limite massimo nel peso che può trasportare i robot sì c'è un limite massimo nel peso di trasportare i robot questo sì noi abbiamo utilizzato il sistema per allocando diciamo un mezzo di trasporto sul tronco sul retro della testa e quindi facendo scaricare l'intero peso sul tronco e sulla base mobile e questo consentiva un trasporto fino a un massimo di 5 kg però va anche considerato che dipende dal tipo di oggetto che deve trasportare e se per esempio invece l'oggetto trasportare viene afferrato con il braccio e quindi viene scaricato sul braccio arriviamo a un peso massimo di 2 kg quindi se deve afferrare degli oggetti con la mano e con il braccio può prendere oggetti fino al massimo di 2 kg se invece il trasporto avviene scaricando sul tronco sulle spalle arriviamo a 5 kg altra domanda le telecamere degli occhi dei robot memorizzano quello che vedono? no le telecamere sono utilizzate come sensori che forniscono delle informazioni sull'ambiente da utilizzare subito ovvero le telecamere servono per aiutare il robot a navigare nell'ambiente e quindi individuare persone ostacoli e queste informazioni vengono acquisite dalla telecamera elaborate rapidamente per poter dare il comando al robot nel caso in cui debba deviare o muoversi o cambiare il tipo di movimentazione quindi la registrazione non è funzionale rispetto a questo tipo di compito in cui diciamo che la telecamera funziona viene detto da noi in vergo in tempo reale cioè da un'informazione che viene immediatamente utilizzata per modificare il comportamento del robot stessa cosa nell'utilizzo che stiamo sviluppando di individuare invece attraverso le telecamere le espressioni facciali quindi le espressioni del viso anche in quel contesto lì l'idea verso la quale ci stiamo muovendo è di guardare le persone in volto e adattare il comportamento del robot in base all'espressione della persona con cui interagisce quindi un tipo di elaborazione che deve avvenire contemporaneamente al movimento del robot e quindi non c'è necessità di registrare informazioni visive che sarebbero anche molto pesanti grazie professoressa per il professor Sota quest'anno prenderò il diploma magari intanto per lavorare con l'intelligenza artificiale quali studi dovrei intraprendere? sicuramente gli studi nell'area scientifico matematica poi attualmente le università italiane offrono diversi percorsi per diventare degli specialisti nell'area dell'intelligenza artificiale sia all'interno della classe dell'area di ingegneria che della classe dell'area di matematica ad esempio al campus del nostro Ateneo offriamo da partire da quest'anno una laurea specialistica in ingegneria dei sistemi intelligenti che vuole proprio formare specialisti capaci di sviluppare un sistema intelligente cioè capaci di sviluppare sistemi che possono elaborare informazioni dalla fase di acquisizione alla fase di presentazione del risultato quindi viene da consigliare un percorso nell'area di ingegneria per esempio iniziando magari con una triennale di base quale potrebbe essere un'area di ingegneria informatica per poi orientarsi a una laurea magistrale orientata all'area al settore dell'intelligenza artificiale grazie professore ma l'intelligenza artificiale che ci ha rappresentato prima sovrappone le immagini di un torace sano a quelle di un torace che sviluppa polmonite no volendo schematizzare rappresentare con poche parole il funzionamento del sistema il sistema vede un insieme di immagini del torace di pazienti sani e un insieme di immagini del torace di pazienti positivi al covid ed impara da queste immagini le caratteristiche tipiche dei polmoni di un paziente sano e di un paziente positivo quando arriverà una nuova immagine che si vorrà classificare il sistema andrà a cercare all'interno dell'area polmonare se sono maggiormente presenti aree tipiche del paziente sano tipiche del paziente malato e ci darà una misura di quanto è probabile che il paziente sia sano sia malato in più come abbiamo visto anche nel video il sistema può fornirci una mappa colorata delle regioni dei polmoni che hanno determinato la decisione che viene proposta offrendo quindi la possibilità di concentrare la propria attenzione dell'attenzione del radiologo sulle aree del polmone di maggior interesse grazie professore con quest'ultimo quesito e con quest'ultimo intervento ringrazio tutti i ricercatori partecipanti il professor Paolo Soda la professoressa Loredana Zolla il professor Zollo e la professoressa e il professor Domenico Formica e vi saluto grazie grazie grazie